Buongiorno, buon caffè. Sempre intrigante rileggere i libri, anche dopo un po' di tempo, e questo che mi ha già dato molto nella prima lettura mi sta dando ancora di più in questa seconda. E siccome a me piace, per vanità, per generosità, scegliete voi cosa vi interessa di più, condividere con gli altri quello che trabocca, che mi piace talmente tanto da volerlo mettere sul tavolo, beh, allora devo per forza passare da qua un'altra volta. E anche con più di uno spunto. Il primo è questo. Come sapete, in questo libro si sviscera in maniera, direi, quasi ossessiva, ma in senso positivo, la parabola del figlio al prodigo, o del padre misericordioso, come viene chiamata oggi, e si va a prendere ogni singolo dettaglio per capire qual è il messaggio per noi. E come ripeto sempre, il messaggio c'è, a di là del fatto che uno si riconosca in questo libro come in un libro per un credente, o semplicemente un libro di saggezza, sto parlando del Vangelo, perché ci sono degli spunti molto interessanti. E in questo caso c'è il tema del banchetto, che devo dire oggi, in questa situazione che stiamo vivendo, è ancora più importante. Perché? Perché qui viene detto in maniera molto chiara che tutte le volte che Dio vuole festeggiare, in qualche modo, qualcosa che per lui è importante, che per lui ha senso, descrive tutto questo come un grande banchetto. C'è il banchetto che ci accoglierà alla fine dei giorni, c'è il banchetto dell'ultima cena, c'è il banchetto con il quale viene raccontato nella parabola il mondo bello, quello che gli invitati rifiutano in qualche modo perché vogliono fare altro, hanno cose più importanti da fare. Ma tutte le volte che c'è qualcosa di positivo c'è un banchetto. E oggi dobbiamo immaginare i banchetti come delle cene, dei pranzi, dove le persone non possono neanche parlarsi perché sono separate dal plexiglass. Scriveva molto bene Mario Verna su LinkedIn qualche tempo fa che il banchetto, l'atto di mangiare, non è per noi semplicemente, come spiega anche in questo caso appunto questo libro, non è semplicemente un modo per alimentarsi, non andiamo fuori al ristorante per alimentarci, andiamo fuori perché abbiamo bisogno di compagnia, perché vogliamo condividere anche il cibo, così appunto come spiega nel Vangelo il Signore, per condividere una gioia, condividere qualcosa di importante. E quindi anche una certa promiscuità, quella distanza che in realtà è molto corta, che ci permette di entrare in qualche modo nelle vite degli altri, poi prometto di non dire più in qualche modo, è qualcosa di significativo, che fa parte della convivialità, che appunto è quello dei commensali, quelli che stanno insieme alla stessa mensa e che condividono in qualche modo la vita. E allora dovremo riappropriarci di questa dimensione, perché quello che noi cerchiamo è una compagnia, è un'amicizia, non un modo per alimentarci o per stare separati. Quello che più ci manca è che dobbiamo recuperare il più rapidamente possibile nei limiti dei rischi che vogliamo correre, ma sapendo che la vita non è soltanto sopravvivere, è anche una dimensione importante dal punto di vista della relazione, dello spirito, dell'amicizia, del piacere di stare dentro alla vita e non soltanto sopravvivere appunto, dobbiamo in qualche modo recuperarlo. Che ne dite? Buongiorno e buon caffè!